Ciao a tutti ragazzi sono Prist, oggi facciamo un po' di Teoricraft su Sonya post patch ho immaginato 4 build, le prime due sono delle build che possono funzionare tranquillamente le altre due sono semplicemente delle build for fun la prima build è la seguente, Shot of Fury, Focus d'Attack, Follow Through, Leap, Spell Shield, Furious Blow e Nexus Blade è una build basata sul Follow Through, quindi sulla possibilità che vi da di buffare l'auto attack dopo la spell Sonya ha tante spell da utilizzare, questo vi permette di shottare un target squishy ovviamente quindi come andrebbe giocata? Andrebbe giocata con il leap, beh il giro di spell sarebbe leap, auto attack, W che costa 35 quindi partendo da 100 avete 35 in meno e siete a 65, quindi W e auto attack, altra W e auto attack passate da 65 a 30 di Fury e a questo punto voi potete, se siete stati abbastanza veloci e se ci sono dei follow, dei follow up quindi ci sono degli stun a seguire che vi possono dare tempo per fare la vostra build ed è sull'applicare la vostra build e il vostro giro di spell allora a questo punto potete fare la Q e poi un altro auto attack, la Q non a costo e alla fine, dato che comunque già sarà morto il target a questo punto potete utilizzare la E e fare danno d'aria dato che in ogni caso questa è una Sonya che verrà utilizzata con un team che fa danno d'aria e che ha tanti stun, slow e così via quindi un team da burst damage se invece il target non è ancora morto invece di utilizzare la E, utilizzate la W nuovamente perché avete abbastanza furia per farlo e vediamo un attimo vi da 50 di furia quindi potreste addirittura utilizzare altre 2 W perché avreste 80 di furia rimanente e quindi dovreste utilizzare altre 2 W per un totale di 4 W un ultimate, 4 W e una Q sono 6 auto attack che potete mettere in fila quindi procchereste 6 volte il follow through quindi sono tanti danni ragazzi comunque ripeto, l'ultima W invece di utilizzarla potete utilizzare il Weerlind e ve ne andate ok non l'ultima, le ultime 2 W ecco scusate invece di utilizzare le ultime 2 W potete utilizzare il Weerlind e Andarven oppure utilizzare altre 2 W è una Sonya che può essere utilizzata con questa build sia come mono tank però dovete essere bravi sia in doppio tank in realtà è come se giocasse senza tank però il vostro obiettivo è prendere la kill immediatamente all'inizio del fight e poi giocare 5 contro 4 è utilizzata a livello competitivo questa tattica con Anubarak che non è tutto questo gran tank assolutamente però appunto vi permette di attraverso la sua ragnatela di fare anche un appunto di trasformare un 5 V4 scusate un 5 V5 in un 4 V5 perché appena il target esce la ragnatela lo shottate lo stesso discorso lo fate con Sonya però invece di mettere dentro la ragnatela gli saltate di sopra e fate partire o Tyrande di Ultimate più Stan o Uther che si avvicina è Stanna o un altro o Valla per esempio con l'Outfit che tiene fermo il target insomma potete fare quello che vi pare per distruggere il target in ogni caso avete abbastanza danni appunto per ucciderlo quindi gli altri assassini potranno concentrare sugli altri componenti del team nemico basterà qualche giusto una spell giusto un paio di colpi per finire il vostro target ok mi sembra sia tutto su questa build passiamo alla seconda build build a tank classica Shot of Fury Shattered Ground per fare un po' di danni in più o l'Hurricane se hanno tanti slow se il team nemico ha tanti slow poi Ferocious Sealing per recuperare l'HP il leap è la triade degli shield questa è la forma di tank cioè la forma tank di Sonia Sonia riesce a essere tankoso soltanto che prende questi tre talenti motivo per cui prendere l'imposto in presence è una follia su Sonia perché significa denaturare anzi snaturare quella che è la build tank di Sonia senza il talento core che è nerfs o steel Sonia non tank ha una cippa e non serve a niente perché se viene focusata anche se ha l'imposto in presence viene massacrata quindi se volete un'imposto in presence in team prendete e voi dovete piccare Sonia prendete un altro un altro tank poi le altre scelte chiaramente le capite bene perché questi quattro sono talenti da tank e gli altri non sono talenti da tank quindi non c'è altro da prendere su cosa potreste essere indecisi se prendere Shot of Fury o Endless Fury io mi trovo meglio con il Shot of Fury se voi vi trovate meglio con altro prendete altro ma mi trovo meglio con Shot of Fury questo l'abbiamo detto va bene mi spiace il Vrattro Berserker non fa parte del mio playstyle non mi piace e io non lo piccherei praticamente mai perché basta un knockback con il Vrattro Berserker e voi uscite fuori posizione perché voi vi potete avvicinare soltanto di Q voi fate la Q anche il primo Raynor che passa vi nocca indietro non potete più tornare in posizione perché mentre vi avvicinate al target vi massacrano e vi kaitano quindi Vrattro Berserker per me è una spell bocciata completamente bocciata però vedremo questo vedremo se siete bravi avete un altro engager potete utilizzarlo il Vrattro Berserker ma a questo punto mi chiedo perché prendere perché prendere Sonia tanto vale prendere un altro assassin quindi boh non sono un fan di Vrattro Berserker o del Berserker build for fun la prima è la build usata sulla W voi mi direte ma perché prendere la W scusate sulla E come vedete perché prendere fare la build sulla E boh ragazzi non ha senso però ve la posto perché ve la faccio vedere perché esiste è una build mezza tank mezza cioè è una build tank però basata sulla sulla E per cui prendete chiaramente l'urricain e poi prendete il life funnel ha senso cioè se la prendete sempre è una build for fun se invece la prendete con criterio cioè perché per esempio il team nemico non ha tanto burst ma ha tanto dps allora potreste anche preferire lo special ai life funnel e quindi questa build che così per come sarebbe for fun potreste utilizzarla come alternativa a quella precedente qual è il discorso perché io dico for fun perché fondamentalmente adesso con il nuovo hero con Jaina ragazzi ci sono troppi mage ci sono probabilmente verrà riutilizzata utilizzata nuova cioè potrebbe essere riutilizzata nuova con la nuova dopo la patch ma non farebbe comunque tanti danni di di spell non le farebbe meno di prima ma comunque ecco vi tornerebbe utile lo special insomma in questo in questo meta in questo momento ci sono tantissime age per cui è il meta dello spell shield vi servirà quasi sempre o più crede quasi sempre per questo non so questa è una variante rispetto a quella precedente così tanto per la voletta in giro che c'era che si doveva fare una build sull'e potrebbe essere questa ma insomma insomma non ne vedo non è pertinente a quello che è il meta attuale secondo me e poi in ogni caso perché prendere l'arricaine se potete prendere altro danno sempre per il discorso di prima per il discorso degli slow eccetera eccetera ma se voi state giocando contro tanti slow in linea state giocando contro Jaina quindi a questo punto prendereste lo spell shield e qui torneremo alla variante precedente quindi queste due sono sono due forme di di tankiness diverse secondo me la più sicura è questa poi prendereste il no escape qui questa build for fun che ho immaginato per andare più rapidi con l'e e quindi concentrarvi sul concetto di e però a questo punto se voi prendete il no escape invece del nerso steal capite che è semplicemente una build basata sulla e e non è una variante di quella precedente quindi per questo ve la definisco build for fun questa è la variante for fun della della build tank basata sulla e vabbè ok quarta build build altra variante della build tankosa sempre for fun perché i primi due talenti che prendereste sono war paint e superiority per poter fare i campi early senza problemi il problema è in quale mappa voi fate i campi early anzi sia early che in mid game praticamente nessuno ragazzi non vi servono questi talenti per cui voi andate in giro i campi e fare campi da soli perché i nears of the storm sono importanti gli obiettivi se voi lasciate il vostro team in quattro a contestare gli obiettivi avete perso la partita quindi potrebbe essere una build a split pusher e a questo punto cioè potreste associare questi due talenti a una build a split pusher però a questo punto sempre quello è il discorso perché prendere questa fare una build a split pusher se ci sono gli specialist non ha senso anche perché se fate una build a split pusher non fate una build da 1v1 da 1v1 ci saranno infiniti hero da 1v1 che vi massacreranno quindi vedete un po' voi ma per me questa è una build per un altro gioco ma sicuramente non per heroes of the storm va bene ok vi metterò in descrizione i vari link per le build e basta spero che il video vi sia piaciuto se vi è piaciuto state mi piace shareatelo condividetelo quindi mettete mi piace sulla pagina di facebook e alla prossima ciao ragazzi grazie a tutti Grazie.